Siamo all'interno del salone del risparmio, direi che è un'ottima occasione per fare il punto su com'è lo stato di salute del risparmio gestito in Italia. Prima di tutto buongiorno e grazie dell'opportunità. Direi che l'industria del risparmio gestito in Italia gode di ottima salute. Negli ultimi cinque anni c'è stata una crescita importante della nostra industria, siamo arrivati ad avere in gestione circa 2 mila miliardi di euro, quindi un asset importante non solo per l'industria del risparmio gestito ma anche per l'economia italiana. La crescita che c'è stata negli ultimi cinque anni è stata sicuramente una crescita determinata da fattori che possono essere considerati anche eccezionali. Sicuramente il fatto che i mercati azionari negli ultimi cinque anni abbiano performato positivamente ha innescato molta fiducia all'interno degli investitori e hanno fatto in qualche modo da volano a nuove sottoscrizioni e nuovi flussi di risorse finanziarie che sono entrate all'interno dell'industria. Altro fattore determinato è stato il quantità di vising. È normale che quando c'è molta quantità di moneta nell'economia parte di questa moneta finisca anche all'interno dell'industria e poi direi che il fattore fondamentale sono stati e sono tuttora ancora i bassi tassi di interesse. Quindi i tassi bassi di interesse hanno fatto sì che gli investitori si sono un po' allontanati da quelli che erano i prodotti tradizionali, il classico BTP, il classico prodotto da banco postale e si sono avvicinati a prodotti come appunto i fondi di investimenti che potevano in qualche modo strutturare profili di rischio a fronte di performance un pochino più alte. Ovviamente il futuro dell'industria è un futuro sicuramente incerto ma positivo e dipenderà moltissimo da come l'industria sarà capace di abbrecciare tre sfide fondamentali. La prima sfida è sicuramente quella della trasparenza, cioè cercare di migliorare non solo l'education da parte dei risparmiatori italiani ma fornire più trasparenza, maggiore chiarezza di quelli che sono i prodotti venduti. A tal riguardo la MIFI 2 sicuramente fornirà un rapporto molto più virtuoso di quella che era l'azione tra produttore, distributore e cliente finale. La seconda sfida ovviamente è quella di legare il risparmio gestito all'economia italiana. Questa è una sfida già parzialmente vinta con i prodotti individuali di risparmio dove si sono riusciti a mettere insieme appunto il risparmio delle famiglie, le capacità di investimento da parte del settore del risparmio gestito e delle agevolazioni fiscali. Quindi questa è una sfida che bisognerà continuare ma già parzialmente vinta. E la terza è la cosiddetta FinTech Revolution, cioè come effettivamente l'industria riuscirà ad abbracciare la tecnologia. La tecnologia da una parte rappresenta sicuramente un valore aggiunto per l'industria perché potrà portare maggiore scalabilità, maggiore margini. Dall'altra parte però rappresenta anche come si dice in inglese la cosiddetta disruption, un ostacolo. Basti pensare a come situazioni come il Robo Advisory possono incidere sia sulla parte distributiva sia sulla parte produttiva. Quindi la capacità che l'industria avrà di abbracciare queste tre sfide decreterà poi il successo, l'insuccesso dell'industria nel futuro. Io sono comunque molto ottimista per il riguardo. Grazie dunque a Danilo Verde Canna, Country Head Italia per State Street Global Advisors.